Il giornalista e personaggio televisivo Paolo Brosio ha chiuso la sua storia d'amore con Maria Laura. A farlo sapere proprio la ragazza. C'eravamo tanto amati, questo potrebbe essere il titolo della storia d'amore tra Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis. I due erano diventati una delle coppie più discusse nelle ultime settimane ad anche alcuni programmi del piccolo schermo ne avevano parlato. Oggi la relazione sembra però arrivata al capolinea. Sono stati spesso ospiti del talk pomeridiano di Barbara D'Urso. A pomeriggio 5 infatti i due hanno più volte raccontato della loro storia d'amore e difeso le coppie in cui c'è molta differenza d'età. Tra Paolo e Maria Laura vi erano ben 40 anni di differenza ma la cosa non sembrava affatto pesare sul rapporto che invece era pieno di amore, affetto e rispetto. Paolo e la sua giovane ragazza hanno vissuto insieme anche il loro rapporto di fede. Il giornalista infatti, molto credente e devoto alla Madonna di Meggiugorie, era riuscito a far avvicinare anche la giovane al mondo della religione. Insomma, una storia davvero esemplare che però pare essere definitivamente finita. L'annuncio è stato reso ufficiale proprio dalla giovane ragazza che sul suo profilo social ha parlato della sua storia d'amore finita. Con alcune stories di Instagram, Maria Laura ha raccontato al mondo intero della rottura con il suo Paolo. La ragazza ha usato parole molto tenere nei confronti del giornalista e, a quanto scrive, pare non ci sia più niente da fare. Io e Paolo in questi giorni ci siamo visti per chiarire il nostro rapporto. Oggi di comune accordo siamo arrivati alla conclusione che la nostra relazione purtroppo è finita. Nonostante ciò il bene che ci vogliamo rimane e tutto quello che abbiamo passato insieme come coppia vera non verrà mai cancellato da nessuno, ha scritto Maria Laura, sottolineando infine che Paolo rimarrà una delle persone più importanti della sua vita e crede che lo stesso valga per il giornalista Brosio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.